Benvenuti a Toscana ON. Non parliamo di innovazione stasera con un format un po' diverso, abbiamo in studio un unico ospite, vi spiegheremo perché, però intanto lo ringraziamo, l'assessore regionale alle attività produttive, al turismo, al commercio, all'economia Stefano Cioffo, grazie di essere qui. Perché Stefano Cioffo? Perché proprio poche ore fa si è conclusa la BTO, la borsa del turismo online, la settimana scorsa c'è stata la BIT e quindi necessariamente parleremmo del turismo, ma appunto dal punto di vista dell'innovazione. E poi ci sono tante cose, noi abbiamo seguito Industria 4.0 che è stata una iniziativa della regione fatta insieme ai ricercatori, agli studiosi delle università toscane per tarare proprio il tasso di innovazione delle nostre aziende. Quindi di questo parleremo, ma andiamo a vedere subito come si è conclusa la borsa del turismo online che si è tenuta a Firenze. Avete un albergo? Sapevate che i cinesi non usano più la mail e quindi è inutile chiedergliela? È un banalissimo esempio di come sia importante essere tecnologicamente pronti anche nel mondo del turismo. Ecco, tecnologia e innovazione sono questi i protagonisti della BTO, la borsa del turismo online alla stazione Leopolda. Molti gli elementi che sembrano un po' fantascientifici, dal chip sottopelle al riconoscimento facciale, ma sono cose che non avranno mai poi un'applicazione concreta? Oppure sì, oppure ce l'hanno già adesso? No, non solo ce l'hanno, è poi la cosa bella della BTO, nel senso che noi abbiamo sempre uno sguardo verso il futuro, ma è un futuro credibile. E ne ho fatto vedere, a ottobre viene inaugurato il treno più veloce del mondo, 1200 km all'ora, non è uno scherzo, c'è davvero. Farà in 12 minuti a Abu Dhabi, Dubai, per l'Expo. L'anno scorso abbiamo parlato di turismo spaziale, sapete che uno degli aeroporti da cui partiranno, partiranno non fra 150 anni, stiamo parlando di progetti da 2 o 3 anni, è in Puglia, quindi saremo uno dei primi spazioporti del pianeta. E così come abbiamo avuto tra i primissimi ospiti di BTO, i due fondatori di Airbnb, quando Airbnb non era nulla e non trovavano neanche i soldi come start-up per partire. Quindi, certo, non tutto quello viene ideato, poi concretamente si vede, però soprattutto le nuove interfacce uomo-macchina, che sono uno degli elementi di rivoluzione completa, a iniziare dalla voce, l'anno scorso ho invitato Alexa sul palco come primo ospite di BTO. Quest'anno parleremo molto di riconoscimento facciale e abbiamo una bellissima installazione che da riconoscimento facciale genera musica ed immagini, proprio la dimostrazione di come questi strumenti poi possono diventare reali e questa è una delle nostre caratteristiche, guardare sempre oltre, però ancorati molto alle cose concrete. Il riconoscimento facciale in Cina, per esempio, è già realtà? Beh, intanto la Cina è una cosa che per noi è faticosa da capire, ma non usa più contante, non esiste più contante, cioè si paga tutto tramite mobile. Adesso hanno iniziato a migliorare di gran lunga gli strumenti di riconoscimento facciale, perché si paga con un sorriso, è la cosa divertente. Come appunto ho fatto vedere ieri in apertura, è curioso sapere che da un'analisi il 40% dei cinesi quando posta a se stesso si ritocca e quindi uno dei due grandi operatori di pagamenti online cinese ha deciso di installare sul riconoscimento facciale, sulle macchine, un filtro di bellezza, per cui ti vedi meglio di come sei, perché molti erano scontenti della faccia che vedevano nello schermo prima di pagare. Ovviamente alla BTO si parla di presente, ma anche di futuro, però quanto ha pesato, sta pesando la questione coronavirus sul turismo anche online? Guardi, credo che sia oggettivamente difficile fare un bilancio in questo momento. Io quello che mi auguro, esattamente, le cito il caso della sostenibilità, perché è un tema su cui c'è molto greenwashing e un po' meno cose serie. Io spero che la tecnologia anche da questo punto di vista ci aiuti e ci aiuti soprattutto nel dare un quadro chiaro e certo della situazione, perché il coronavirus è un esempio lampante, solo dal tono dello speaker e dal telegiornale si capisce il dramma. E si capisce un dramma che poi però i numeri parrebbero non confermare, perché adesso il fenomeno è sicuramente molto delicato e molto grave, però non sembra una cosa così drammatica come qualcuno vuole raccontarci. Quindi qua il tema, secondo me, è capire soltanto, spero grazie alle tecnologie, avere una istituzione seria, credibile, di quello che sta succedendo. Ho citato prima la sostenibilità perché iniziamo a parlare in BTO per la prima volta di questo argomento in maniera strutturata, proprio perché riteniamo che gli strumenti elettronici e digitali possano dare una mano a capire qual è il vero, per esempio l'impronta di sostenibilità di un viaggio e soprattutto stiamo analizzando le possibilità di customizzazione delle camere sulla base della tua propensione all'ambiente. Se è uno molto attento, la camera si adatta alle tue abitudini, non c'è più il cartellino non mi far lavare gli asciugamanica, è anche un po' deprimente, ma in realtà la temperatura, i litri di acqua che vengono erogati, tutta la camera si adatta magicamente alla tua vicinanza a questo argomento. I numeri del turismo in Italia parlano di un aumento dei russi, per esempio, che stanno arrivando nel nostro paese, ma sono anche coloro che usano di più l'online, cioè chi sono i paesi più tecnologici? È assolutamente spostato l'uso della tecnologia in tutta la parte medio orientale, ieri ho fatto vedere come il 91% degli accessi alla rete negli Emirati Arabi è da cellulare, contro i 56% degli Stati Uniti, quindi una differenza enorme e soprattutto ovviamente India e Cina. India e Cina sono totalmente digitalizzati, l'approccio è totalmente diverso, le famose foto del QR code per dare l'elemosina tramite cellulare in Cina, danno l'idea del fatto che il device è la tua finestra sul mondo, tutto passa da lì. Tra le tante cose carine che abbiamo visto c'è un service come c'è il bike sharing e c'è il battery sharing, nel senso che siccome il problema delle batterie è un problema reale, e lì se ti scarica il cellulare non c'è più nulla, non hai il portafoglio, non puoi salire su un mezzo di trasporto, cioè non è uno scherzo. Hanno variato queste società per cui non leggi la batteria e la restituisci magari 5 km dopo come una bicicletta. Alcune cose sono ancora un po' lontane dal nostro mondo, però guardarle e conoscerle ci permette di anticipare il problema. pensi che ci sono ancora alberghi che chiedono ai giuristi cinesi la mail che in Cina non si usa, quindi se tu non capisci bene con cui stai parlando e quali sono le tecnologie che stai usando, che peraltro secondo me arriveranno anche qui con calma e con lentezza, ma insomma mi sembra che il futuro sia molto chiaro da che parte sta andando, rischi di avere uno svantaggio competitivo. Andiamo a scoprire due particolarità futuristiche della BTO, il microchip sottopelle e il riconoscimento facciale. È di Bioex, un'azienda svedese, l'idea che sembra davvero venire dal futuro, un microchip sottopelle che è come una chiave. Lei per esempio si è fatto installare anni fa questo microchip sottocutaneo, ma è pericoloso? No, assolutamente. È un semplicissimo NFC RFID, come una qualsiasi chiave d'albergo, un badge di lavoro o una tessera dell'autobus. L'unica differenza è che è sottopelle ed è come una chiave. Io posso accedere al computer oppure, se registrato dall'hotel, poter entrare nella camera d'albergo. La vera innovazione però su cui sta lavorando Bioex è il pagamento anche attraverso il microchip, un sistema di pagamento che potrebbe farsi non disperdere i dati personali, cosa che avviene molto spesso quando paghiamo con la carta di credito. Questo naturalmente comporta che tutti dovrebbero avere un microchip. Quanto è futuristica quest'idea? Certo, sicuramente chi deciderà di impiantarselo, noi faremo il possibile per offrirgli questo servizio e poter pagare da tutti gli esercenti con un normalissimo post. È già una realtà il pagamento con il microchip da qualche parte? Attualmente no, noi stiamo lavorando per diventare una banca online, una società fintech, in modo da portare direttamente al cliente col microchip la possibilità di mettersi la propria carta del proprio account all'interno della mano. E per quanto riguarda invece l'apertura delle porte delle camere d'albergo è già una realtà? Quello assolutamente sì, in Svezia viene molto utilizzato, soprattutto all'interno degli uffici, oppure nei mezzi pubblici come biglietto, il controllore passa con un lettore e controlla se il tuo abbonamento è attivo. Riconoscimento facciale nel turismo. Il riconoscimento su base biometrica è sempre più utilizzato e anche nel turismo potrebbe trovare spazio dalle compagnie aeree agli hotel. Viene già usato in Cina e in India per la sicurezza, per i pagamenti, l'analisi dei dati e la personalizzazione dell'offerta turistica. Usato adesso anche negli aeroporti italiani a Fiumicino e Linate, ma anche da Enjoy, ad esempio, l'azienda di car sharing che permette di sbloccare l'auto con questa tecnologia o può essere usato per l'entrata a parchi divertimenti dove potrebbero sparire i tornelli. I problemi che pone sono ovviamente la conciliazione della sicurezza con la privacy, un tema che non ha ancora una disciplina chiara. Nella cultura europea l'idea del controllo di massa, visto anche le guerre, tutti i conflitti che abbiamo avuto, è qualcosa che evoca subito delle ferite profonde, per cui in generale nella nostra cultura c'è una certa riluttanza, dal mio punto di vista molto giusto, ad implementare dei sistemi di controllo di massa, anche se apparentemente per fini positivi, perché c'è questa idea che avere più dati voglia dire essere più sicuri. Avere più dati vuol dire avere più dati da analizzare, ma si può rischiare anche l'effetto ago nel pagliaio, quindi poi avere troppi dati, o quello che il professor Degliantoni chiamava l'effetto troppa grazia Sant'Antonio, avere troppi dati può addirittura arrivare ad essere controproducente, perché poi in questa grande quantità di dati non riusciamo ad estrarre le informazioni utili. Quindi sono cose che vanno usate con molto grano salis. Nel gruppo di esperti della Commissione europea di cui faccio parte, nelle raccomandazioni di policy, noi abbiamo suggerito alla Commissione di non adottare strumenti di intelligenza artificiale, quindi riconoscimento facciale, legati a identificazione di massa. Bene, Assessore, eccoci tornati a Toscana On, abbiamo visto la conclusione della Borsa del Turismo Online. Insomma, sul fronte del turismo il tasso di innovazione della nostra regione è molto alto, direi quasi tradizionalmente alto, no? Beh, tradizionalmente è l'inquadramento corretto, siamo alla dodicesima edizione della BTO, la BTO è diventata un appuntamento centrale di riferimento per il mondo del turismo e per esplorare tutte le opportunità, tutti gli strumenti, tutte le sollecitazioni che l'innovazione tecnologica, la ricerca, la capacità di comunicare mettono a disposizione degli operatori del settore, dalla costruzione delle narrazioni, dei prodotti turistici, delle sollecitazioni, alle strumentazioni, alle competenze necessarie, alle modalità con le quali si stanno le piattaforme, a come si riesce anche con una dimensione di una struttura ricettiva di modeste e piccole dimensioni a stare in un mercato globale. è una scommessa che la Toscana ha fatto quando ancora le piattaforme erano ai primi passi, quando Airbnb non esisteva, eppure in Toscana si parlava di turismo e si parlava di come ci fosse questo passaggio, questa scommessa da assumere in pieno e credo che questo ruolo ci sia stato riconosciuto oggi da veri protagonisti, se si vuole parlare di innovazione nel turismo bisogna essere alla BTO e questa edizione ci ha dato il merito e le attese che aspettavano. Sì, poi si vedeva anche, come dire, quelle figure, persone, operatori che ci sono sempre stati, ma anche ricambio, nuove figure che arrivano in questo mondo che è in continua evoluzione. È un mondo che si rigenera e che mette a disposizione ciò che non abbiamo. Bisogna essere in BTO non tanto per trovare conferme delle proprie scelte, ma per capire cosa posso fare di diverso, di nuovo, nelle mie strategie aziendali per l'anno a venire. Cosa devo fare prima degli altri, perché la competizione, questo è così strutturata, se sei capace di stare sull'onda riesci a sopravvanzare, avanzare, ad avere un vantaggio competitivo e credo che la competenza e la conoscenza che BTO mette a disposizione degli operatori sia fondamentale per chi opera in questo settore. Ecco, come dire, seguire le attività produttive, i settori produttivi, significa anche necessariamente oggi doversi, come dire, dover stare attenti a anche situazioni in cui le crisi incombono, oppure ci sono, come dire, questo ruolo che le multinazionali giocano fino a quando a loro fa comodo e poi arrivederci, grazie. Da questo punto di vista come stiamo in Toscana? Beh, questa è una riflessione complessa da portare a sintesi. Il ruolo delle multinazionali è innegabile e in Toscana vi sono consolidate presenze di multinazionali che costituiscono un importante elemento della nostra economia. Ma se ci si innamora di questo si rischia di non avere poi la capacità di sostenere e rendere produttivo un mondo, quello più specificatamente legato alla nostra tradizione industriale, quello delle piccole e medie imprese, che comunque qui restano, magari con le sofferenze, con i cicli che l'economia mondiale ormai riversa anche in questo mondo, ma che costituiscono la tipicità della struttura dell'economia toscana. Laddove ci siamo affidati in passato alla presenza delle grandi imprese, siamo rimasti un po' con la mare in bocca, penso alla parte nord della costa, dove l'abbandono del territorio ha lasciato tracce oltretutto anche impattanti, non solo in termini di inquinamento ambientale, ma soprattutto di squilibrio delle comunità locali. La Toscana ha questo vantaggio, quello di essere un'economia agganciata a distretti, a un modello distrettuale, ben raccontato in questi anni, con specificità, con creatività, con competenze. E insieme, a fianco alle piccole e medie imprese, ha anche l'effetto di traino delle grandi. Abbiamo, come Regione Toscana, svolto in questi anni un ruolo importante di attrazione, di marketing territoriale. Abbiamo raccontato l'eccellenza della Toscana e abbiamo trovato, devo dire, un riscontro oggettivo. Produrre in Toscana è diventato il segno di un vantaggio competitivo. Le grandi imprese vengono volentieri in Toscana, cercano possibilità di insediamento perché qua c'è la consapevolezza che ciò che viene prodotto con la storia della Toscana dietro ha un vantaggio in più, un valore aggiunto nel prodotto finale. E questo è anche dal punto di vista del PIL, no? E questo fa sì che noi, pur essendo al centro Italia, non nel grande nord, più centrale rispetto all'economia europea, siamo la quarta regione a livello nazionale, siamo oltre la media nazionale a livello di PIL, siamo oltre la media nazionale in termini positivi sui tassi di occupazione, la nostra disoccupazione è sotto le due cifre, siamo per export percentualmente la più forte regione di questo paese. La nostra capacità di export è davvero sorprendente e devo dire che alla fine, dando per passata, e passata non è, la grande crisi con l'abisso del 2009, ne siamo riusciti proprio per la nostra capacità di stare con prodotti innovativi e di alta, altissima qualità sui mercati internazionali. Questo ha fatto sì che la Toscana si sviluppasse, superasse la nottata e consolidasse il proprio sistema produttivo. Ecco, di fronte a questo dazzismo, diciamo, questo protezionismo di ritorno che viene soprattutto da questo vento statunitense, da Trump, eccetera, eccetera, e i suoi adepti, insomma, come sta impattando con la nostra economia? Quelle politiche sono assolutamente spregiudicate, poco rispettose del principio del libero commercio e dei mercati, esclusivamente mirate ad un uso politico, strumentale, di tutela di un interesse particolare, ancorché di un interesse nazionale, tant'è che ne sono evidentemente e ben contenti chi temporaneamente ne gode i benefici. Dico temporaneamente perché l'economia è globale nonostante Trump. E se si pensa di condizionare il commercio, il traffico delle merci, l'industria, con i dazi e con i mercati, ragioniamo ancora con mentalità ottocentesca, non sapendo o facendo fin da non sapere che i capitali superano i dazi, gli investimenti superano le barriere e si produce laddove il mercato dà il maggiore margine di soddisfazione, oltre alle tutele, ma nella capacità di stare sui prodotti e sui mercati in maniera competitiva e innovativa. Chiudersi non ha mai pagato nessuno. Fra l'altro il mondo dell'imprenditoria ha bisogno, oltre a mercati aperti, anche di innovazione. La regione toscana ha voluto essere il protagonista di una politica anche di monitoraggio del livello, del tasso di innovazione nell'industria. Noi fra poco vedremo, nella seconda parte della nostra trasmissione, daremo voce anche a quei studiosi, a quei docenti delle università toscane che hanno partecipato a questa rilevazione proprio del livello di innovazione della nostra industria, dell'industria toscana. Perché avete deciso di intraprendere questa attività? Beh, c'è stato negli anni passati, nell'ultimo governo Renzi, una spinta forte verso il sostegno all'innovazione tecnologica del paese, prendendo atto che la cosiddetta impresa 4.0, la quarta rivoluzione industriale, era già partita nel nord Europa, soprattutto in Germania, e se noi ci fossimo attardati ulteriormente in un processo di sollecitazione dell'innovazione, rischiavamo di uscire dai mercati. Quelle misure sono state misure di natura fiscale, hanno favorito gli investimenti, le acquisizioni, con benefici fiscali elevati ed hanno avuto un impatto in termini di massa, diciamo, importante con tutto l'effetto positivo che se ne può generare. A fianco a queste, misure volte al sostegno dell'innovazione tecnologica sono partite dalle regioni, in particolare dalla regione toscana, dal mio settore che ha messo a disposizione diverse decine di milioni su bandi rivolti all'innovazione tecnologica. È stato il nostro filo conduttore in questi anni, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, internazionalizzazione, rivolto al mondo della piccola e media impresa, soprattutto quando anche in collaborazione con le grandi imprese creavano occupazione o consolidavano mercati e settori produttivi. In questa cornice globale credo che la capacità di essere efficaci debba essere misurata e che non si possa evocare una soluzione generica, generalista, senza entrare nel dettaglio e senza capire se le nostre azioni hanno un effetto misurabile. Ed è quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato con una prima indagine, una prima rilevazione complessiva dell'impatto delle nostre azioni, nostre e del governo, sull'economia toscana. Quella prima rilevazione ci ha un po' scioccati, pensavamo di essere più avanti. In effetti abbiamo misurato nella prima un vago interesse e un modesto avvio di processo di innovazione tecnologica verso le piccole e medie imprese, mentre era ben presente nelle grandi imprese, evidentemente già strutturate su scala internazionale, quindi già propense, già destinate, già consapevoli del ruolo e della responsabilità che hanno nei processi di innovazione. Una seconda rilevazione conclusa, si è presentata poche decine di giorni fa, ci ha consentito di recuperare un po' di ottimismo. Cominciamo a farle per settori. Ancora una volta, dal generale, dal quadro complessivo, entriamo nel dettaglio, facciamolo lo sforzo, mettiamoci la testa e cerchiamo di entrare nei particolari. Abbiamo visto come si è spostato, a fronte di una continuità di azioni, non solo della regione, ma anche delle associazioni di categoria, tutte che con noi hanno accettato e assunto questa scommessa, che quantomeno l'attenzione e il livello di interesse e la consapevolezza che l'innovazione è nel destino di ogni attività d'impresa, il messaggio è passato e i numeri ne danno riscontro. Insieme a un progressivo tasso di innovazione che si avvicina, non alla sufficienza, ma verso numeri accettabili e comunque in linea, se non superiori ad altre realtà. Concorre in questo anche una riflessione. Probabilmente il nostro sistema di impresa è legato al settore, soprattutto della moda. Il nostro export è legato sostanzialmente a quello. Moda intendo dai tessuti, alle confezioni, alla pelliteria, la concia, quanto questo vasto settore che copre tutta la città metropolitana e l'area pratese e impolese, è il cuore vero del nostro export. Forse su questo non abbiamo compreso appieno fin dall'inizio quale potesse essere l'effettiva penetrazione dell'innovazione. Però, l'ho detto nell'ultimo convegno, se in una conceria, come viene detto, di quelle fanno numeri importanti e danno qualità del prodotto, che una pelle passa di mano cento volte, è evidente che in quel processo produttivo una fase di innovazione è possibile inserirla. E se l'innovazione mantiene, insieme alla capacità e alla creatività del sistema, si supporta e si inserisce su una industrializzazione, noi non possiamo che venire fuori con un vantaggio ulteriore sulle nostre merci e sulle nostre attività. Facciamo una breve pausa e poi torniamo a Toscana On con l'assessore Stefano Cioffo. Bene, eccoci ritornati a Toscana On. Parliamo di industria e innovazione, della misurazione dell'innovazione nelle industrie. Si può dire, assessore, lei è una realtà che conosce bene, insomma, che forse il settore tessile a Prato, negli anni, anzi nei decenni scorsi, ha avuto, come dire, una salita costante verso l'innovazione, anche dal punto di vista ambientale, per esempio. Il vantaggio del fare imprese in Toscana è questo. I nostri prodotti e i processi produttivi che portano ai nostri prodotti sono abbinati alla consapevolezza che ciò che esce dalla Toscana esce attraverso processi industriali sostenibili. E' per questo che chi produce pelletteria vuole andare a Santa Croce a produrre, perché può certificare di essere uscito con i propri prodotti da un distretto che non lascia niente di impronta sull'ambiente, niente in termini tecnici. Altrettanto sul settore tessile, penso alla mia città, penso a quando ormai da 30 anni ci si dotava di acquedotti industriali, ci si sta dotando ora di reti duali di fognatura, di impianti di depurazione che riversano in superficie acque che sono assolutamente oltre le tabelle minime di legge, all'attenzione verso tutte le fasi del processo produttivo. Oggi c'è una sensibilità che forse non si percepisce appieno rispetto alla qualità dei prodotti, non solo sul prodotto finale, ma proprio per tutto ciò che la filiera di produzione ha innescato e carica in termini di impatto ambientale nel suo sviluppo. In questo la Toscana ha, per aver fatto le imprese e le istituzioni, investimenti in tempi ormai storici, un vantaggio rispetto a altri territori. Lei ha parlato di sostenibilità e ora prima di andare a vedere appunto le rilevazioni, la misurazione dell'innovazione Industria 4.0, sostenibilità mi fa pensare all'Expo. Ora, avendo seguito entrambi gli ultimi Expo, proprio per raccontare sia Shanghai che Milano, ma soprattutto anche nelle fasi preliminari, oltre poi che nell'evento vero e proprio, sia per Shanghai che per Milano, l'attività era avviata da mesi, cioè c'era stato un input, ovviamente generale, da parte del governo, e come dire, ma per tempo, per tempo, e poi le regioni, insieme alle categorie economiche, come dire, ragionavano sulle migliori modalità della spedizione. Io ho l'impressione di aver perso qualche battuta, perché non mi è sembrato che il governo avesse detto ora pronti via, o ho sbagliato io, insomma? Beh, non ha sbagliato. L'Expo di Milano è stato un momento particolarmente positivo e ha mostrato l'efficacia con la quale si può essere presenti in un evento di quel tipo, quando c'è chiarezza di progettualità, chiarezza dei ruoli e si mette insieme istituzioni e imprese. Milano ha funzionato e ha funzionato l'immagine del nostro paese nel mondo con quella vetrina. Oggi parliamo della presenza del nostro paese e eventualmente della nostra regione a Dubai. Dal mio punto di vista non siamo partiti con il piede giusto. E poi sarebbe ottobre, no? L'inizio. Certo. C'è stata, da una parte, forse, la sottovalutazione del ruolo che può avere l'Expo rispetto alle sollecitazioni dell'economia, alle opportunità di presenza del nostro paese in mercati. In quel caso Dubai è evidentemente rivolta verso mercati orientali. Sarà quello il dialogo che dovremo costruire. Però bisogna andarci in un'azione sinergica nella quale il Ministero stabilisce modalità, mette a disposizione le risorse, attiva ISE, attiva ENIT perché in quei paesi parlare di Europa e parlare di Italia in particolare significa parlare di cultura e parlare di turismo piuttosto che di eccellenze dei prodotti forse legati più al lusso che ad altro. E per farlo bisogna farlo in maniera strutturata. L'approccio iniziale è stato quasi, come dire, di un notaio che chiede ai singoli, e alle singole regioni la condivisione dei costi all'interno di una narrazione di una regia unica fatta anche correttamente organizzata dal Ministero ma dove in tre minuti si racconta l'Italia. Se la Toscana deve esserci per essere una delle immagini che sfrecciano su una parete ed è quello il ruolo che andiamo a assumere il filmato si può fare anche senza di noi io ho suggerito una lettura diametralmente opposta da una parte ho chiesto a Enit al Ministero di attivare il ruolo dell'ente nazionale di turismo perché lì racconti del nostro paese e fra i racconti del nostro paese non può che esserci la Toscana non dico come l'elemento di maggior richiamo ma verso quei paesi forse direi anche di sì ma non possiamo essere da soli e allora la mia domanda è stata rivolta alle imprese alle associazioni di categorie esserci lì ha senso se ci sono le imprese andare a raccontare la presenza di un assessore piuttosto di un presidente o di un altro soggetto pubblico lo trovo assolutamente inutile noi ci saremo ci investiamo se con noi ci sono le imprese altrimenti preferisco che scorra qualche immagine della Toscana e che le nostre risorse siano investite in maniera diversa bene grazie grazie all'assessore Stefano Cioffo la nostra trasmissione ovviamente non finisce qui anzi andiamo a vedere proprio Industria 4.0 la regione le università insieme per misurare il tasso di innovazione dell'industria toscana vediamo e grazie ancora all'assessore bene partiamo sul sul tipo di indagine il gruppo di lavoro come vi ho detto tre atenei sette dipartimenti quindi la chiave di lettura a volte del singolo tema può riflettere la matrice no di esperienza professionale di ogni attore i settori che ci sono stati dati l'obiettivo l'obiettivo era di andare a vedere come le applicazioni delle tecnologie industria 4.0 erano introdotte nelle piccole e medie imprese quindi state attenti nella analisi delle imprese noi non avremo le micro ma non avremo neanche le grandi nelle grandi noi siamo sicuri che questo approccio è già molto diffuso e molto avanzato noi abbiamo il mondo delle piccole e medie imprese che caratterizza l'industria toscana e abbiamo alcuni settori questi settori ci sono stati dati non li abbiamo potuti scegliere che trovate là elencati guardate in realtà noi abbiamo più questionari voi qua ne trovate 421 ma in realtà noi ne abbiamo racconti 500 ce ne è un'altra ottantina sul sistema della pelletteria concia che però verranno presentati in un'altra indagine ma in realtà il nostro database è fatto di 500 imprese qual è nello stato evolutivo da un minimo di uno outsider a un massimo top performer il risultato su queste 421 aziende è un punteggio di circo di media di 2,6 come diceva Caporale possiamo essere da un lato scontenti perché ci aspettavamo un valore più alto ma personalmente quando abbiamo iniziato 2,6 non mi sarebbe dispiaciuto però dico anche una cosa ecco noi abbiamo intervistato non delle aziende qualsiasi nei criteri di selezione del campione noi abbiamo intervistato aziende che erano in collaborazione con i distretti che sapevamo hanno partecipato a bandi regionali che dal punto di vista economico sapevamo che andavano bene quindi la selezione del campione non è neutra nella valutazione guardate io conosco bene la realtà retina e quindi quando ho visto quel valore dell'ora mi sono stupito ma ci sono 15 aziende ecco quello per cui io mi dico vabbè meno male è perché effettivamente mi ha confermato una cosa che nella foresta di Beccattini c'è qualche albero un po' più alto che effettivamente sta sulla frontiera e sta lavorando certo se invece di 15 aziende ne avessi dovuto intervistare 80 di sicuro quel 3 non ce l'avevo quindi attenzione nel leggere i dati a me però interessa segnalare una cosa che la fotografia che emerge non è un sistema regionale immobile diciamo che non è una lepre diciamo che si è mosso sull'innovazione 4.0 diciamo che a seconda dei dati non abbiamo dati uniformi e quindi vorrei aiutare con voi a leggere questo dato segnalando le cose che ci piacciono e quelle che magari non ci piacciono allora andiamo un po' a vedere alcuni aspetti di criticità vedete da questo grafico al di là quindi questo è il dato scomposto per i singoli settori gli elementi che mi interessa farvi vedere sono intanto due la prima è che se andate a vedere le risorse e anche i sistemi informativi cioè quella parte operativa macchine introdotte digitalizzazione dei processi ci sono dei dati abbastanza confortanti cioè effettivamente è chiaro sarebbe stato meglio trovare una media del 3,5 invece di un 2,6 però c'è un primo sforzo di inserimento di nuovi processi e di nuovi sistemi informativi per adeguarsi adeguarsi a un nuovo scenario competitivo il dato che però vedete generale è il forte mismatch che c'è guardate la cultura è chiaro che la cultura noi abbiamo intervistato il top management dell'azienda quindi abbiamo l'imprenditore o i direttori generali che si stavano occupando signori sono interviste che durano in media dalle 3 alle 6 ore quindi siamo andati molto nello specifico e un primo ringraziamento va agli imprenditori manderemo a tutti il rapporto a tutti quelli ma veramente un grazie agli imprenditori che hanno creduto in questo progetto hanno perso tempo però il vero punto è il mismatch che c'è tra la parte organizzativa che è quella in giallo e la parte operativa ecco quando poi analizzeremo il tema delle performance dimostra che qui c'è un sistema che ha preso coscienza ha fatto degli investimenti sulla parte operativa fa fatica ad adeguare il proprio modello di business sulla parte organizzativa che vuol dire competenze del personale modelli organizzativi diversi rispetto al prima e questo vedrete andrà a influenzare le performance che tipi di risorse beh diciamolo qualche volta può anche darsi che il piano calenda sia stato visto come una bella sabatini dove si è fatto un po' di rinnovamento di macchinari alcuni di questi macchinari probabilmente già servivano macchine utensili dispositivi di misura probabilmente non è detto che poi siamo sulla frontiera di industria 4.0 però intanto un'introduzione di macchinari è stata fatta anche di più macchinari qual è l'elemento forse da vedere che i macchinari più avanzati dentro quell'altro ci potrebbero essere visori di realtà aumentata quindi diciamo che macchine specifiche di industria 4.0 non sono molto diffuse riguardano solo alcune aziende due cose che non mi sono molto piaciute se noi andiamo a vedere il grado di interconnessione di queste macchine quindi sono macchine molto lavoro puntuale è basso cioè la vera sfida di industria 4.0 è mettere in rete queste macchine per aiutare in vertice a reagire in tempo reale ancora abbiamo sistemi puntuali le aziende stanno facendo investimenti puntuali per arrivare poi a un vero sistema 4.0 ce ne vuole certo il problema è ma siamo veramente sicuri che il nostro punto di arrivo sia per tutte le aziende di arrivare al 6 questo è il vero punto dovremo vedere secondo punto l'importanza dell'uomo nei singoli processi è ancora molto rilevante anche qui alcuni miei colleghi lo analizzano in maniera negativa perché questo è corretto quando ti hai sempre bisogno dell'uomo e non riesci a integrare completamente però se voi andate a vedere il tipo di produzione quando ti hai modelli di produzione dove piccole industrie artigianate convivono dove ti cambia spesso il prodotto e c'è una forte varietà e variabilità probabilmente l'uomo ti serve anche per adattare quindi forse ci verrà richiesta una lettura specifica come mai ci serve sempre l'utilizzo dell'uomo per andare a implementare anche macchinari nuovi e qui probabilmente letture settoriali le letture firm specific ci serviranno qual è il livello di maturità tecnologico gestionale noi abbiamo un buon numero di aziende che ha introdotto sistemi di certificazione di vario tipo guardate a me non interessa il bollino interessa quando adotti un sistema di certificazione stai rivedendo i processi operativi qui c'è un numero non marginale di aziende che lo ha avviato certamente lo potrei leggere all'incontrario c'è un bel numero di aziende dove è in ritardo nell'analisi dei processi operativi fare un'implementazione di industria 4.0 senza rivedere i processi operativi è un aspetto abbastanza velleitario prima devi andare a rivedere e rileggere i tuoi processi e poi implementare le modalità di registrazione degli indici di performance qui siamo più sulla parte dei sistemi informativi sicuramente software gestionale modalità di registrazione delle performance sono abbastanza interessanti solo il 3% non fa analisi dei dati certo alcuni forse non lo fanno con sistemi particolarmente avanzati però questa parte qua forse è quella dove fa vedere che le aziende da tempo hanno avviato qui invece lì alcune ecco la lettura è più composita guardate nel primo grafico mi scuso con i colleghi perché lo so che ho tagliato un sacco di roba ma voglio stare nei tempi beh se noi andiamo a vedere le assunzioni nell'ultimo triennio se voi andate a vedere 18% siamo sotto il 20% è chiaro la congiuntura è quella che è è difficile cioè a volte quando sei in un settore che non ha alti margini di guadagno inserire competenze specialistiche ha un costo e oggi bisogna andare a capire se oggi questo costo alcune piccole e medie imprese se lo possono permettere però signori se voi vedete alcune delle competenze inserite ingegneri meccanici ingegneri gestionali sono figure diciamo generaliste è chiaro si ha difficoltà a inserire figure specialistiche di 4.0 guardate a me non interessa tanto andare a quantificarlo a me interessa A come mai e B siccome i nostri ingegneri il lavoro lo trovano forse stanno andando da qualche altra parte cioè oggi il nostro grado di collegamento di bravi ingegneri perché dall'estero ci ripigliano ben volentieri dove stanno andando stanno andando verso altre regioni stanno andando in altri paesi che difficoltà c'è da parte delle piccole e medie imprese guardate dall'altra parte noi vediamo anche i tipi di formazione beh qui una cosa è se voi vedete è ancora prevalente un sistema di formazione on the job e questo non è necessariamente una cosa negativa l'università il sistema della formazione può dare un tipo di formazione generalista poi quando introduco che tu venga dalla scuola dell'obbligo da una laurea triennale o dalla laurea magistrale ho bisogno di un tipo di formazione on the job il problema però è se io ho delle risorse che hanno o per età o per modalità un tipo di competenza che si è formato nel tempo e io ho delle sfide oggi di robot il tipo di formazione on the job dipenderà dalla qualità delle persone che fanno questa formazione di nuovo da modelli organizzativi nuovi quindi bisogna anche capire oggi quali sono i modelli formativi più idonei sulle sfide A guardate anche qui bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto il dottor Caporale propende sul bicchiere mezzo pieno beh possiamo dire che il 47% mi sa definire che sono cosa sono di soft skill e ci sta investendo forse potrei anche dire il 53% a volte non mi sa definire quali sono i soft skill e non lo ritiene rilevante attenzione io non voglio dire che l'obiettivo è che per forza di cose tutti devono andare a investire in soft skill però noi sappiamo dal job market perché lo vediamo che oggi i nostri migliori laureati trovano lavoro sia per le loro competenze hard ma prevalentemente sulle loro competenze di soft skill se un imprenditore non me lo reputa importante o dice sì però non ci investo a me preoccupa se c'è qualche di un altro di altri territori o di altre imprese che ci sta investendo perché vorrei fare in modo che le mie risorse migliori rimangano nel territorio approccio data driven in questo caso nel 42% dei casi i lavoratori sono guidati da conoscenze anche qui per me è coerente con il tipo di settori intervistati qualche di uno potrebbe leggere ma il 58% non lo fa quindi a seconda della vostra propensione a leggere il dato lo possiamo interpretare in un altro modo beh sulle conoscenze e sulle competenze qualche criticità c'è modelli di business molta letteratura cos'è la capacità dell'azienda nei suoi vari elementi di produrre e creare valore nel tempo beh il 64% dell'azienda che conosce il modello di business attenzione stiamo intervistando il top management in qualche piccola impresa il 36% non sa definirmi un modello di business ma soprattutto vedete il problema a volte come pur di sapermelo definire come lo riesci poi a implementare in delle azioni operative no? questo secondo me è un elemento importante magari lo sai ma poi hai difficoltà a tradurlo in azioni concrete ad esempio qua abbiamo un 40% che già mi definisce gli obiettivi in digitale o in cartaceo e siamo superiori diciamo ai due terzi del nostro qui abbiamo però probabilmente ancora un terzo delle aziende intervistate che ha un sistema di direzione possiamo dire intuitiva che non hanno procedure formalizzate io gli obiettivi ce li ho però ce li ho nella mia testa e dico alla gente al giorno come deve lavorare che lo sappiamo benissimo è quanto abbiamo appreso dal passato il problema è se oggi di fronte a sfide di questo tipo questo modo di direzione di tipo intuitivo che te o hai degli obiettivi ma non sono spesso formalizzati e li fai a voce sia adeguato per le sfide che abbiamo davanti che lo vedete le strategie di sviluppo sono definite solo verbalmente un'altra cosa vabbè che gli obiettivi siano spesso di medio periodo vedendo la rapidità con cui sta cambiando il contesto non mi spaventa perché oggi si fanno i piani triennale ma tutte le volte o arrivano i dazzi o arrivano una crisi di Lehman Brothers effettivamente per le aziende è difficile fare i piani di sviluppo di lungo periodo certo alcune cose di dotazione tecnologica informativa qualche cosa di medio periodo è normale non lo imposta però guardate il sistema decisionale è quasi sempre di tipo centralizzato allora questo cosa vuol dire anche qui niente di nuovo io sto investendo il mondo delle piccole e medie imprese sto intervistando i direttori generali e i manager gli imprenditori signori ci viene fuori ancora una lettura del grande condottiero non dico solo al comando ma con un sistema molto verticale dove ho un decisore e molto spesso è una persona che ha una forte cultura perché se vi guardate i dati la cultura era alta che poi però è anche un po' sovraesposto cioè alla fine questo qui viene bombardato da problemi di produzione digitalizzazione del marketing nuovi sistemi di formazione è sempre un uomo solo tanto è vero come dice sì è un modello gestionale centralizzato ma poi mi avvalgo di team di lavoro ho l'impressione che questo modo di governance di direzione centralizzata con i nuovi cambiamenti che sono così rapidi e così profondi possa fare fatica no? perché siano affaticati anche a livello generazionale perché magari sono persone che dal punto di vista generazionale magari sono laureate in ingegneria ma si sono laureate in ingegneria qualche anno prima ecco questa è una parte del modello di business che come si crea valore al di là dei grafici e degli approfondimenti guardate l'elemento che viene fuori che indipendentemente che tu hai proposto produca serie corte allotti piccoli grandi lotti emerge che per gran parte delle aziende da noi intervistate l'elemento comune è l'alta varietà è lì che ci dice dove è la sfida dell'industria 4.0 per questa regione e per le nostre piccole e medie imprese cioè che se tu vai su grandi produzioni standardizzate di massa è facile fare un certo tipo di automazione quando devi convivere con un'alta varietà che tu sia una piccola azienda meccanica ma che tu sia anche un'azienda del tessi di abbigliamento è lì che il sistema probabilmente incontra l'uomo incontra la complessità di un settore dove probabilmente alcune soluzioni che possono andare bene per l'industria tedesca qualche volta devono essere rilette e rilavorate per il nostro ruolo all'interno di una catena del valore globale altra cosa qui che rapporti abbiamo su segmenti di Twitter e relazioni con i clienti e canali distributivi altro aspetto che è coerente con la nostra specializzazione sono aziende che lavorano su mercati spesso di nicchia e segmentati le relazioni con i clienti sono importanti anche se sono un po' differenziate le modalità quindi è difficile darvi un valore uguale per tutti una one best mail non l'abbiamo mai trovata quindi però ad esempio l'archivio reclami spesso in digitale si presta molta attenzione alla soddisfazione del cliente però attenzione questo non vuol dire che io poi sto investendo tanto nella parte del marketing per alcuni settori la parte marketing di gestione dei rapporti con i clienti è meno importante rispetto a altre ora le vedremo quali nella parte di distribuzione il questionario noi abbiamo preso un questionario già stato sviluppato da altri quindi io non rispondo del questionario ma la parte di analisi con il mercato finale era meno sviluppata rispetto all'analisi dei processi c'è un aspetto che soprattutto riguarda la logistica in uscita le aziende fanno fatica a farla improprio si avvalgano di terzisti e molte volte loro avverto che non hanno le competenze necessarie per affrontare una sfida così complessa io sono Franco Failli Università di Pisa anche io sono un ingegnere che prosegue la serie e lavoro al Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale appunto dell'Università di Pisa io parlerò di due settori cartario e nautica e anticipo subito che si tratta di ovviamente due mondi distantissimi non solamente per prodotto ma anche per situazione cominciando a parlare dal cartario che è bene chiarire non è il cartario delle grandi aziende che fanno issue della zona di Lucca ma è il cartario abbiamo detto all'inizio l'ha detto il dottor Caporale anche poi il professor Zanni è il cartario delle piccole delle cartotecniche dei tubifici delle aziende non gigantesche vediamo che la situazione tutto sommato non è come anche qui mi ritrovo a dire le stesse cose che diceva il professor Zanni poi così male perché rispetto a una dimensione aziendale spesso piccola e a un approccio necessariamente molto vicino a un approccio artigianale vediamo invece che probabilmente grazie al fatto che siccome il prodotto è indubbiamente povero stiamo parlando di carta quindi c'è bisogno di avere una produzione su grandissimi numeri anche se l'azienda non è tanto piccola questo vuol dire che molte di queste aziende hanno grossi magazzini e infatti è nella parte di gestione dei warehouse che vediamo essere presente un sviluppo non banale di impiego di applicazioni informatiche e quindi proprio quelle che facilitano quella comunicazione tra mondo delle macchine o dei materiali e mondo umano che l'industria 4.0 si propone di sviluppare sempre di più e di rendere sempre più efficace ed efficiente in questo settore qui vediamo che questo sviluppo esiste probabilmente dico probabilmente perché noi qui oggi disponiamo di una fotografia mentre giustamente il dottor Caporale diceva sarebbe interessante vedere un trend quindi magari gli faremo in futuro una cosa del genere per vedere dove andiamo nel breve e lungo periodo nel medio e lungo periodo e vediamo che appunto qui non siamo messi malissimo addirittura sono presenti anche gli AGV Automated Guide Vehicle quindi qualcuno si sbilancia anche verso applicazioni non solamente utili ma estremamente diffuse ma anche proprio di punta come in altri settori e un po' dovunque constatiamo anche qui che però il grado di interazione tra i macchinari quella già accennata unione informatica tra tutto quello che fa produzione all'interno dell'azienda anche qui è bassa sono degli spot delle macchine magari ad alta automazione ma singolarmente che fanno cose bellissime ma che le fanno loro e niente sanno del resto non si dice dell'azienda o del mondo passando al settore della nautica l'abbiamo già detto l'ha detto qualcuno prima di me siamo di fronte a una situazione veramente strana intanto il numero di aziende che siamo riusciti a intervistare bassissimo 4 perché non sono interessati perché non c'è bisogno perché la nautica è residuale in Toscana assolutamente falso la nautica è una delle eccellenze toscane noi produciamo cose che nel mondo nessun altro fa e sappiamo perfettamente tutti che i clienti delle nostre aziende del settore della nautica quelle grandi sono gli uomini e le donne in qualche caso più ricchi del mondo e più influenti del mondo quindi abbiamo qualcosa di veramente strano veramente strano perché la fotografia di questo settore io l'ho avuta il giorno anzi i giorni che sono andato a Viareggio e sono andato in via Coppino in via Coppino voi girate a destra e vedete non quella che mi sono avuto a chiamare barca voi vedete un'astronave poggiata nell'acqua del bacino e dall'altra parte vedete un negozio dove ci sono degli artigiani che con la carta vetrata strusciano sul compensato marino tenuto dai morsetti questa distanza siderale tra un'estremità della catena produttiva e l'altra è il motivo per cui noi abbiamo questo numero di aziende sostanzialmente non ci volevamo interessare proprio per impostazione dell'indagine alle grandissime alle grandi che sapevamo essere assolutamente forti dal punto di vista dell'industria 4.0 volevamo vedere le piccole ecco non abbiamo trovato le piccole abbiamo trovato le micro ci sono delle realtà dove si produce direttamente quello che poi verrà preso e montato sull'astronave non c'è niente nel mezzo né da un punto di vista di esistenza di strutture né da un punto di vista di situazioni collaborazioni l'imprenditore esce dalla porta attraversa 10 metri di strada e va a parlare con il signore che ha la carta vetrata in mano e ha ancora le mani sporche di segature questa è una situazione assolutamente strana e che determina situazioni assolutamente particolari per cui a fronte di prodotti che incorporano una quantità di innovazione e di progresso ripeto a livello aerospace e in qualche caso anche superiore perché spinti dalle volontà di questi clienti molto strani troviamo persone in grado di soddisfarle con strumenti estremamente basic poveri e con processi aziendali gestionali e in qualche caso anche realizzativi assolutamente anche questi di livello non diretto verso industria 4.0 diretto verso un'eccellenza che non guarda a quegli aspetti che invece caratterizzano industria 4.0 e uno degli aspetti importanti che sono venuti fuori anche dal focus group e che forse dà ragione anche di questa distanza enorme che esiste tra questi due gradini della filiera produttiva è il fatto che mancano i giovani sembra una banalità lo sappiamo tutti le difficoltà che hanno i giovani nell'ingresso del mondo del lavoro specie se non in possesso di titoli più o meno altisonanti ma qui lì sta diventando una cosa veramente drammatica perché la persona con in mano la carta vetrata che sta di là dalla strada spesso è una persona anziana e sicuramente non giovane mature magari ma non giovane questo è un problema perché inevitabilmente la transizione verso strumenti che facciano un uso significativo diffuso e utile di tecnologia digitale non può prescindere dalla presenza altrettanto significativa di persone giovani e lì mancano per motivi che adesso qui sarebbe lungo stare a spiegare ma è stato fatto chiaramente capire che questo è uno dei problemi un altro dei problemi che non è un problema naturalmente fortunatamente è il fatto che gli affari vanno bene e quindi non esiste quella spinta della necessità che in altri settori invece ha caratterizzato questa transizione e che in questo specifico settore è decisamente debole in questo momento io ho esaurito i sette minuti a mia disposizione e quindi spero di aver dato in quattro anni il modo con cui ci si approccia al problema dell'impresa quello che un professore due anni fa disse ah ma questo è un metodo sudaticcio perché su dieci contatti uno te ne va bene perché pensare lo dico con la trasparenza che ho sempre avuto di fare 10 internazionali perché si fa business è un errore devastante io partecipare a un convegno della rivista dell'industria a Padova in cui dall'epoca il presidente con l'industria servizi disse ora tocca a noi è stato un errore non so se tattico strategico perché la battaglia e lo dico non è a chi riesce a vendere i servizi alle imprese magari magari perché il sistema di incentivi e di opportunità ci sono e il bando che è nostro e il bando nazionale della microinnovazione non è provare l'opportunità è far capire all'imprenditore che acquistare quel bene e fare quella cosa perché la dall'analisi viene fuori una cosa che sta reggendo anche alle regioni più grandi stanno tutti a guardare perché vi dico e chiudo stavamo ieri discutendo con la segretaria come lanciare il comunicato stampo della ricerca i comunicatori dice la regione è in ritardo io ho visto i dati e ho detto pensavo meglio bisogna accelerare forse sì ma come fare a chiedere a un settore una volta faccio la presentazione a un settore produttivo che è uscito da dieci anni di crisi con un sistema del credito prossimo allo zero è ripartito perché avere queste performance sull'export è un dato che ribadisce ancora il calore di Beccatini perché i dati sulla produttività questo è il tema di temi forse noi siamo lo 0-1-0-2 quest'anno in Lombardia si stiamo sotto lo 0 Lombardia ha un trend i 20 anni non cresce come l'Unione Romagna la Toscana partendo più basso allora abbiamo tassi di produttiva quindi di efficienza non eccetera riusciamo a fare le performance sull'export siamo una delle televisioni che hanno in piedi dell'export nazionale fin quanto reggiamo in questo modo allora emerge e lo dico anche ai settori che più conosco e che hanno quello che diceva il Presidente noi che riusciamo a reggere sull'export avendo dei margini elevatissimi o meglio buoni sull'innovazione di prodotto ma guardate che sull'efficienza produttiva noi rischiamo di perdere la nostra competitività e questo riguarda tutti anche le medio-grandi anche le medio-grandi voi le conoscete e su questo bisogna fare uno sforzo perché il rischio è che il petto ha presentato a Pisa un rapporto un mese fa un'analisi io sono rimasto all'eviso Stefano Casini che rischiamo e già ci sono alcuni segnali macro che stiamo ritornando alla competitività sul costo che per noi sarebbe una riattura la competitività sul costo significa ribaltare la riduzione di margini sul costo del lavoro a questo punto la scommessa non è l'operario il dequalificato è l'ingegnere perché se uno vuole lanciare la sfida della digitalizzazione e vuole pagare poco l'ingegnere l'ingegnere non ci viene ma non ci viene nemmeno l'operario spalificato quindi un orientamento di policy spinto più sull'efficienza adattativa su questo non c'è dubbio sarebbe già una scelta selettiva non da poco non da poco riusciremo a spingere a fare un piccolo piano 4.0 che dice non so se prioritario non so se esclusivo lavoriamo sull'efficienza produttiva perché sull'efficacia nel senso sulla migliorazione del prodotto ma perfino il distretto di segromini nelle scope lo fa perché è riuscito ad avere il bastone universale non è che è proprio il masico però su questo noi abbiamo segnali non positivi ritornare all'efficienza alla copilità sul costo per noi sarebbe una perdita di copri fin quanto leggiamo da questo punto di vista non so se è questo una provocazione perché è un po' timido il presidente forse così come il professor Zanni ha lanciato un appello al mondo della ricerca su cui io sapete ho abbandonato qualsiasi speranza forse quel lavoro che abbiamo iniziato di mettere a fattore comune le banche date i risultati di ricerca che abbiamo fatto anche in maniera il questionario nostro il tuo il suo forse è arrivato un momento perché queste informazioni noi abbiamo un problema presidente di pubblica amministrazione 4.0 non so se ce la farò però noi abbiamo bisogno di avere informazioni di quello che succede nel tessuto produttivo forse prima di voi perché altrimenti i nostri strumenti fare un credito di imposta fare un grande ricerca il sviluppo secondo la smart specialization siamo come dire molto bravi a farlo però cosa ne viene fuori spendiamo bene ma poi viene fuori riuscire a fare quello che dite voi l'ultima però questo io mi astengo da qualsiasi appartenente abbiamo una sfida collettiva dentro le amministrazioni di fare politiche integrati però su questo voglio come dire il mio già ho dato però siamo un pochino indietro perché qui devo dire i sindacati sono molto più avanti mettere insieme macchina formazione soft sarebbe arrivato il momento sarebbe arrivato il momento di farlo a livello nazionale è ancora il selettivo perché prima il macchinaio poi il credito si potrebbe fare gli strumenti ci sono sono un po' complessi ma ci si arriva il Mise lo fece all'inizio degli anni di questo secolo il PIA pacchetti integrati ai cellulativi non è che è un'invenzione innovazione però è arrivato il momento perché se non si fa così credo che anche diventa il tema il tema del macchinario l'abbiamo affrontato e superato il tema degli scherzi da questo punto e la ricerca devo dire vi dà anche le sorprese che vengono su ci sono artigiani in realtà sono positive perché la filiera della Nautica i 7 la controllano in una maniera feroce mi è ben chiaro bisogna arrivarci in quel caso a lavorarci quella differenziazione politica però è un tema molto politico più che tecnico su cui sono io che lancio la sfida a voi quando andate in tavoli di concertazione e regionale grazie davvero l'assessore regionale Stefano Ciuofo parlava poco fa del laboratorio 4.0 specifico nel Tessile ed eccoci qua al museo del tessuto di Prato per l'analisi del tasso di innovazione proprio applicato a questo settore sono stati resi noti infatti gli esiti della ricerca interdipartimentale dei tre atenei toscani fatta su 163 aziende di Firenze Prato e Pistoia che sono il cuore del tessile moda della Toscana allora sentiamo cosa è emerso professor Lorenzo Zanni il bicchiere è mezzo pieno è mezzo vuoto o siamo troppo ottimisti allora noi abbiamo intervistato circa 500 aziende in Toscana piccole e medie per andare a misurare il livello di evoluzione di Industria 4.0 nei loro modelli di business e nei loro modelli organizzativi su una scala da 1 a 6 viene fuori un livello medio di 2,6 quindi tra principiante e intermedio bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto è chiaro che la frontiera tecnologica non ce l'aspettavamo perché è una cosa rara a livello anche internazionale personalmente penso che per il campione abbiamo analizzato il bicchiere è mezzo pieno ci stanno però facendo emergere dei dati delle criticità su cui bisogna agire in pratica la dimensione risorse l'aspetto ardo e le macchine con Industria 4.0 piano calenda è stato fatto degli forti investimenti anche sui sistemi informativi la componente organizzazione che riguarda competenze del personale e modelli organizzativi delle imprese ci sono fortissimi ritardi quindi il bicchiere è mezzo pieno soprattutto per alcuni elementi per altri elementi il bicchiere è mezzo vuoto e non permette di estrarre tutto il valore di questi investimenti che potrebbe permettere se avessimo anche le risorse umane adeguate alla sfida tecnologica e quindi per cogliere questa sfida cosa devono fare le imprese? questo è un segnale per tutti allora in primis per gli imprenditori cioè che non conta quanto è l'investimento in macchinari o in elementi fisici dell'azienda che sono importanti ma sono solo una parte oggi l'elemento altrettanto critico è le persone che ti affiancano un aspetto importante è che la cultura cioè il livello di consapevolezza di questi imprenditori lo abbiamo trovato abbastanza alto quindi loro sono in grado molte volte di capire la sfida però si rendono conto che hanno una struttura organizzativa che ancora non è in grado di affrontare cioè posso comprare la macchina ma mentre invece per tirar fuori le persone che mi servono servono tanti investimenti quindi questo in primis è una cosa che riguarda l'impresa riguarda l'università e tutto il mondo della formazione anche delle scuole tecnico-professionali perché se ci sono carenze nell'aspetto della formazione può essere da un mismatch tra domanda e offerta che può essere di quantità quindi forse non siamo in grado di dare abbastanza ingegneri di quanto il sistema industriale toscano ci sta richiedendo ma forse a volte anche della capacità del sistema industriale del sistema della formazione di interagire quindi io sono delegato al trasferimento tecnologico di Siena ma per lo stesso cosa per Firenze e per Pisa per tutti noi è un segnale di fare ulteriori sforzi di migliorare le interazioni tra i nostri distretti i nostri sistemi dell'impresa e il mondo accademico e infine probabilmente anche per i policy maker e per gli attori istituzionali associazioni di categoria probabilmente ci sono dei margini di miglioramento e direi notevoli sulla parte della formazione professionale perché oggi probabilmente c'è difficoltà a tradurre determinati investimenti di formazione professionale fatte perché se le aziende continuano a segnalare delle grosse criticità su questo vuol dire che o la qualità o la quantità o vediamo un po' le modalità di formazione professionale ci sono margini di miglioramento le istituzioni in questo caso quella regionale come possono aiutare certi processi a parte mettendo a disposizione dei finanziamenti beh guardi intanto diciamo una cosa su Industria 4.0 ha agito molto il governo nazionale perché di risorse ne sono arrivate tante io ho trovato alcune delle pratiche di parlando con le aziende alcuni bandi regionali io li trovo molto efficaci sono ad esempio quello sui servizi qualificati che vengano utilizzati con modalità rotativa probabilmente bisognerebbe ragionare sull'efficacia su alcuni investimenti nell'area della formazione secondo me ma non voglio entrare nel dire se è fatto bene o fatto male forse abbiamo bisogno di soluzioni nuove io personalmente in regione l'ho sempre detto tenere separate attività produttive da formazione sul versante di Industria 4.0 è pericoloso perché a me un computer se io non ho un ingegnere o comunque un tecnico bravo e lo sa usare mi serve a poco quindi bisogna individuare anche nuovi meccanismi di incentivo che colleghino meglio la parte di investimento hard o quello software poi abbiamo il sistema dei distretti tecnologici che viene fuori un sistema a geometria variabile qualche cosa sta funzionando bene qualche altra cosa sta forse funzionando meno bene dove lì c'è più problemi di interazione di organizzazione tra sistemi molto complessi dove forse la struttura industriale è molto più pervilizzata e in realtà locale più tradizionale ora non voglio far nomi però io lavoro su Life Science personalmente noi trovo che nel distretto Scienze della Vita quando gli interlocutori sono grandi o comunque anche spin off accademici il distretto stia lavorando molto bene nel settore della moda abbiamo molta più polverizzazione con competenze più tradizionali mi rendo conto il lavoro è diverso dobbiamo migliorare l'interazione tra centri di ricerca pubblici e privati ci sono margini per fare sinergia se no si disperdano le azioni Professor Mauro Lombardi dell'Università di Firenze qual è lo stato di salute o meglio qual è la diffusione lo tasso di diffusione della tecnologia nelle nostre imprese dunque indubbiamente sono stati fatti negli ultimi anni grazie anche ai provvedimenti nazionali investimenti in tecnologie in macchinari software e così via sistemi di software è cambiata non è cambiata adeguatamente la cultura manageriale e il modo di affrontare alcuni problemi di riorganizzazione del ciclo produttivo e della struttura logistica del distretto questo è un aspetto importante su cui occorre lavorare su cui occorre sviluppare competenze tecnico-manageriali e per ottenere questo bisognerebbe superare un problema che le imprese hanno rilevato cioè il disallineamento che c'è attualmente tra mondo della ricerca e mondo delle imprese per cui arrivare a lavorare per una maggiore integrazione coordinamento strategico progettuale tra imprese e il mondo della ricerca è fondamentale per un motivo cruciale siamo nel pieno di un profondo cambiamento del modo di concepire di pensare i prodotti di organizzare i processi di organizzare la logistica anche quella urbana che qui è strettamente intrecciata alla logistica del industriale e quindi questo non si può fare in modo isolato le singole imprese o solo le imprese occorre sviluppare quello che si chiama partnership strategico progettuale congiunta tra pubblico e privato e questa è una delle grandi sfide che richiede anche competenze anzi soprattutto tecniche tecniche o manageriali completamente diverse dal passato e su questo bisogna lavorare penso a una realtà come Prato dove l'individualismo è sempre stata una caratteristica dalla doppia faccia ecco questo è uno dei punti di debolezza che non è venuto fuori da nasi questionario però noi sappiamo è definisco debolezza perché l'innovazione attuale nella fase storica odierna non può essere fatta da una singola impresa o da un singolo da un piccolo gruppo di imprese deve essere un'innovazione che coinvolge l'intero sistema faccio un esempio non per portarlo come modello ideale da realizzare ora vengono fatti i jeans con il grafene per assicurare proprietà endotermiche al corpo umano cioè contenimento della temperatura d'estate e d'inverno c'è chimica informatica elettronica c'è il finissaggio c'è la tessitura eccetera ma sono domini di conoscenze differenti che vanno messi insieme quindi necessariamente è l'impresa che deve si chiama Gerg Open Innovation deve fare innovazione interagendo strettamente con altre entità imprese di finissaggio di tessitura imprese di elettronica e centri di ricerca ecco perché appunto l'integrazione tra conoscenze e allora in questo scenario cosa diviene l'imprenditore l'imprenditore non deve essere uno che sa tutto deve essere uno che è in grado di coordinare con la strategia con lineamenti strategici le competenze l'imprenditore l'imprenditore